Intervento sul tetto della pieve di Santa Maria di Arezzo, un intervento dei vigili del fuoco richiesto da Don Alvaro, un intervento dovuto molto probabilmente al maltempo che si è abbattuto nella città nelle scorse settimane. A preoccupare era la palla di pietra che sorregge la croce che si trova sul campanile della pieve, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo e sul tetto si è recato anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, una volta che è stato imbracato è stato portato proprio sul tetto della pieve Aretina per un sopralluogo. L'operazione dei vigili del fuoco ha interessato la messa in sicurezza della croce sul campanile, i vigili del fuoco hanno poi provveduto anche a rimuovere alcune tegole danneggiate dal tempo ma anche dagli agenti atmosferici.